18-16 solo rimessa infatti per la Nutribullet quarto fallo di squadra per la Tezenis Zanelli prova a mettersi il ritmo sfidando Olman alza la parabola canestro da capitano i compagni qui rivediamo il tentativo di Zanelli che alza tantissimo la parabola sulla difesa di Olman e pesta proprio la linea dei 6.75 4-9-5-2 Zanelli in possesso sfida Xavier Johnson arresto tiro del capitano di Treviso il cuore oltre l'ostacolo Zanelli lascia scorrere il cronometro aspetta il blocco di Invernizzi diventa un pick and pop ma non consegna a Zanelli arresto tiro alza la parabola con l'aiuto della tabella mamma mia Alessandro Zanelli la maglia scaligera dal 95 al 99 in quel caso c'era stato addirittura il record di spettatori in Serie A2 mentre Zanelli a Zanelli a Zanelli a Zanelli a Zanelli Grazie a tutti